Genera una struttura cristallina di ogni liquido. Riduce la tensione superficiale dell'acqua. Migliora il gusto di tutte le bevande, sconfiggendo l'inquinamento da ELF e MF. Aumenta la data di scadenza delle bevande. Migliora l'assorbimento delle creme per la pelle. Ha un chip NFC. Ricarica la card con il tuo smartphone. Usa anche i 4 biodisc per armonizzare le frequenze naturali. Vitalizing card. Armonizza le frequenze della tua vita.